E poi c'è un altro episodio che avviene durante una partita, particolarmente inquietante se si pensa che l'ultimo attentato della mafia doveva avvenire proprio in uno stadio. Il 22 dicembre del 2002, durante la partita Palermo-Ascoli, e proprio nel carcere di Ascoli, sarà una coincidenza, ma è rinchiuso Totò Reina, durante la partita Palermo-Ascoli, su una curva dello stadio Barbera di Palermo compare uno striscione. Sopra c'è scritto, uniti contro il 41 bis, Berlusconi dimentica la Sicilia.